Buongiorno a tutti dagli O65 questa mattina sono andato su youtube ho guardato dei video di mercato sono andato ho visto un video del mio amico Daniel Orgoglio Gobbo e mi sono subito esaltato esaltato perché è ovvio, tu senti un video di questo tipo e siccome fondamentalmente sul mercato siamo tutti sul calcio siamo tutti un po' bambini sogniamo che certe trattative vadano in porto per me sentire Pogba cambio di Douglas Costa o Pianis oppure tutti e due ovviamente uno non può che essere felice e io vorrei sapere qualcuno che ha percusioni per Pogba perché francamente avere percusioni per Pogba no perché qualcuno dice poi magari la minestrina riscaldata sì perché la sbobba che mi sto mangiando adesso è meglio fammi mangiare la minestrina che la minestrina alle volte riscaldata è buona e sta frase non l'ho detta io l'ha detta Gianni Agnelli Gianni Agnelli quando tornò Lippi disse ma è una minestra riscaldata? ma le minestrine riscaldate a me piacciono tantissimo e siccome il buon avvocato quando parlava era una sentenza la penso come lui ma benvenga a Pogba tutta la vita e giocherebbe con la tranquillità che appena tocca il pallone nessuno avrebbe niente da dire al primo missile da fuori area ci sarebbe l'eiaculazione generale dello stadio quindi quando sento dire ma mi mo forse allora sì è un giocatore che costa un perù e quindi ha bisogno di scambi probabilmente se ci riusciamo con degli scambi a portarlo è un giocatore fortemente mediatico mediatico che attira sponsor perché è un personaggio era già un personaggio a vent'anni Pogba giocatore che ci servirebbe Juventino Amato non c'è nessuna preclusione poi ci può essere qualcuno che voleva altro a me sarebbe piaciuto mi piace anche Milinkovic Savic che comunque non viene gratis però ha il vantaggio che magari non gli devi dare 12 milioni di ingaggio e non è una cosa da poco perché il monte ingaggi è micidiale e quindi sentendo questa notizia da Dani c'è già la mattinata la mattinata ha svoltato rispetto alla depressione che bisogna anche sognare un pochino quindi sognare fa bene perché i nomi che vedo vedo uscire ultimamente mi stanno mandando in depressione si sento parlare di si è partito dai Cardi che per me è il top si è scesi a Milik che per me è un ottimo giocatore ma con infortuni insomma è un giocatore su cui dovessi scegliere io non punterei fino ad arrivare a Zappata che è un carro armato che ha fatto benissimo in Italia ma che comunque è sempre la terza quarta quinta scelta sono le classiche scelte che fanno le squadre di seconda categoria che poi la Champions non la vincono mai quindi tu vuoi vincere la Champions devi puntare a certi determinati giocatori se vogliamo sempre fare la solita annata del cazzo del cazzo e per intendere del cazzo è giocare in campionato avendo avversari che ormai ti si sono avvicinati perché se prima erano molto distanziati a livello di punti adesso sono molto più vicini di prima quindi prima o poi capiterà che ti inchiappeteranno e non vincerai neanche lo scudetto e quindi sogno con Pobba certo che sogno spero che in qualsiasi io ho la mia convinzione che ci siano pochi soldi e che sia un'impresa quest'anno con questo virus a meno che non si riprenda e riescono a portare nelle casse qualcosa meno una parvenza di normalità di sicuro Pogba io andrei a prenderlo col tandem fino a Manchester e me lo porterai qua mi li libererai magari di uno due giocatori che hanno anche ingaggi pesanti ma io anche tutti e due io anche tutti e due Costa e Pianici gli darei pure un ventino proprio 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 per invogliargli perché tanto Pianici è ammortizzato da un pezzo è stato pagato poco 36 milioni 36 milioni non scassassero una minchia 16 16 17 18 19 20 è stato è ammortizzato quindi tutto quello che è ammortizzato non perdono niente quell'altro è tre anni è stato pagato top valore di mercato credo bassissimo a a livello contabile quanto potrà essere ancora da ammortizzare 7-8 milioni forse neanche quindi mi levo 15 milioni di ingaggio 7 riprenderà ne prenderà 6 uno e 6 l'altro 12 24 milioni di ingaggio posso pagare l'ingaggio a Pogba bello tranquillo tranquillo poi mi serve una punta posso andare a cercare un accordo tanto l'inter i cardi non se lo può tenere i cardi non se lo tiene si può arrivare fino alla fine del mercato cercando una trattativa cercando di dargli dei giocatori che servono a noi giocatori che a noi non serve bernardeschi piuttosto che non quadrado non il jolly e quindi tenendosi ovviamente i vari Di Bala Cristiano Ronaldo a quel punto poi un bel tonali senza andare a rischiare Arthur Re Artù Arturo Merzario scegli lì i giocatori al Barcellona e quando il Barcellona cede i giocatori è sempre qualche fregatura io non lo conosco francamente io un brasiliano un altro brasiliano io proprio li batterei tutti fuori alla porta i brasiliani mi tengo giusto Sandro perché c'è poco sulla fascia perché poi Emerson Palmieri in sostituzione è sempre un mezzo brasiliano pochi acquisti mirati ma di sostanza di forza di forza gente che non è vecchia e eliminazione di determinati di un sacco di rami secchi magari Bernardeschi nell'Inter diventa Robben con l'aiuto di Conte a lui piacciono gli esterni magari si può prendere Bernardeschi è un conguaglio e poi ci si guarda intorno se c'è qualche occasione ci si guarda intorno se c'è un'occasione qualche parametro però prima si fa l'ossatura della squadra e poi si guarda se c'è qualche parametro zero possibilmente Danilo out sarà un altro che sarà difficile da cedere anche se non è nemmeno lui non è una grande spesa a livello contabile tutto sommato questo è stato 20 25 si può cercare di sbolognarla a qualche squadra di secondo piano investire qualche scambio con qualche altro giocatore comunque già la notizia di Danilo Orgoglio Globo corroborata dal fatto che venisse da Di Marzio che è uno di quelli credibili speriamo purtroppo siamo in altissimo mare non si sa neanche se si ricomincia quindi speriamo tutta la vita sì tutta la vita sì non me ne frega un cazzo se se n'è andato se torna non ce ne sono tradimenti nel calcio un saluto dagli ux65